29 giugno la festa dei santi Pietro e Paolo e dunque in questa giornata così importante lo abbiamo detto anche all'inizio della nostra trasmissione Papa Francesco presiderà in San Pietro la celebrazione nel corso della quale imporrà il paglio a 42 arcivescovi metropoliti provenienti da tutto il mondo. Noi proviamo anche ad allargare lo sguardo alla diocesi di Roma perché a Roma nello specifico è festa patronale come si suol dire e noi vogliamo parlare di dei tanti anche eventi collaterali a questa festa con una cara amica Sara Alessandrini che già abbiamo avuto modo di ascoltare qui sui nostri schermi sugli schermi di Padre Pio TV che è una travel blogger cattolica ci terrei a sottolineare. Buongiorno Sara bentrovata e grazie per essere ancora con noi. Buongiorno a tutti e buona solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Allora Sara come dicevamo questa festa pur essendo diciamo collocata nella ferialità anche se diciamo oggi è sabato e magari complice il weekend ecco le manifestazioni saranno un po' più corpose però a Roma davvero i santi Pietro e Paolo conservano potrei dire potremmo dire quel fascino che riporta la città eterna alle origini del cristianesimo e dunque descrivici un po' ecco le tante iniziative che la diocesi di Roma nello specifico ma anche tante altre associazioni enti hanno organizzato per questa giornata di festa. Sì a Roma oggi si celebra appunto la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo ma in realtà abbiamo iniziato il 20 giugno con una novena nella Basilica di San Pietro per la prima volta la Basilica ha organizzato questo momento di preghiera che è durato nove giorni seguendo le meditazioni di Don Fabio Rosini ed è stato un momento molto bello per accompagnarci appunto a questa solennità celebrare la solennità. Ieri sera c'è stata una veglia a San Pietro e sulla cattedra di Pietro Don Fabio Rosini ha fatto questa omelia molto bella e molto sentita da tutti i fedeli e così siamo entrati appieno in questa solennità che oggi viene celebrata veramente in grande con due itinerari che vengono percorsi a Roma. Infatti questa mattina alle ore 10 inizia l'itinerario Quo Vadis quindi la via di Pietro e la via di Paolo sono due itinerari diversi uno un po' più lungo uno un po' più breve per andare anche incontro alle esigenze di tutti. Ma diciamo vorrei spiegare una cosa fondamentale il perché di questo itinerario del nome Quo Vadis e soprattutto vorrei parlare di questa chiesa domine Quo Vadis che si trova sulla via Appia che è molto importante perché testimonia proprio la presenza e il passaggio di Pietro a Roma. Infatti la chiesa prende il nome da un evento eccezionale perché dovete sapere che si trova sulla via Appia è una delle prime chiese di Roma e San Pietro mentre stava entrando nella città di Roma fu preso dal dubbio dalla paura dallo sconforto perché effettivamente stava venendo a Roma per essere martirizzato. E quindi si ferma decide di tornare indietro ma in quel momento appare Gesù e Pietro gli dice domine Quo Vadis signore dove vai e Gesù gli risponde Pietro vado a farmi crocifiggere per la seconda volta. E allora lì Pietro capisce il senso della sua missione capisce che ha un compito che deve portare a termine così ritorna indietro e si incammina appunto verso il cuore di Roma poi quello che sarà poi la Basilica di San Pietro ma farà un percorso passerà diverso tempo a Roma. E infatti la testimonianza poi di questa sua presenza ce l'abbiamo in tantissime chiese e questi due itinerari insomma di cui ti parlavo sono appunto la via di Paolo e la via di Pietro perché anche Paolo è stato a Roma e abbiamo anche tantissime testimonianze della sua presenza. Sono appunto degli itinerari che ripercorrono tutte le tappe che hanno fatto Pietro e Paolo a Roma a partire dalla Basilica di San Sebastiano fuori le mura dove entrambi gli apostoli sono stati sepolti per più di cento anni. Quindi questa basilica è un po' una pietra miliare della presenza degli apostoli a Roma e da qui parte uno degli itinerari che poi è appunto la via di Paolo che è quella più lunga di 12 chilometri e poi si attraversano anche altre chiese come Santa Pudenziana che era appunto il luogo che si può definire un po' la casa di Pietro perché Pietro è stato diversi anni, diverso tempo insomma ecco in questa in questa abitazione del senatore E' quello che stai dicendo Sara ecco direi la manifestazione più forte del fatto che la città di Roma debba ancora tanto a questi due grandi santi Pietro e Paolo. Tu ovviamente hai citato la Basilica di San Pietro ma c'è anche quella cosiddetta sulla via Ostienze la Basilica di San Paolo fuori le mura all'interno della quale sono conservate le reliquie appunto di San Paolo. Paolo che anche oggi ricordano ovviamente in maniera molto specifica questo grande santo l'apostolo delle genti giusto? Esatto sì la Basilica di San Paolo fuori le mura è un luogo veramente eccezionale assolutamente da visitare all'interno sono conservate diciamo anche il sepolcro effettivamente di Paolo e le catene del martirio. Queste catene questa sera alle ore 20 verranno portate in processione per le vie del quartiere Ostienze ci sarà alle 18 un solenne pontificale con il cardinal James Harvey e poi alle 20 ci sarà questa processione veramente storica che prende le mosse dal 1949 è iniziata appunto in questo periodo e è stata portata avanti appunto negli anni e si concluderà il tutto con una benedizione sul davanti diciamo la Basilica con le catene appunto di Paolo. Senti Sara ora abbiamo offerto diciamo un quadro un po' più tra virgolette religioso della diciamo di questa festa così bella così importante invece dal punto di vista un po' più laico ecco cosa prevede il programma odierno? Guarda c'è una bellissima rievocazione storica questa sera alle 21 e 30 a Castel Sant'Angelo si chiama La Girandola ci sarà uno spettacolo pirotecnico che si può appunto vedere da Ponte Sant'Angelo ma anche da diverse parti di Roma è una cosa che viene portata avanti da anni veramente ed è uno degli spettacoli più belli che si organizzano a Roma anche se diciamo l'aspetto religioso per me ha sempre un valore molto molto più forte ecco. Sì in effetti ne parlavamo anche qualche giorno fa con un altro collega della Puglia che diciamo ci ha un po' come dire parlato dell'importanza del vivere le feste religiose dunque le feste patronali che poi si appena estate essere diciamo numerosissime in giro per l'Italia a partire proprio dalla componente religiosa. Io ne vorrei approfittare un altro paio di minuti con te Sara perché proprio a proposito della stagione estiva che è appena cominciato sappiamo tutti che chi più chi meno ecco ci mettiamo in macchina in aereo in treno per raggiungere luoghi di villeggiatura luoghi anche in qualche maniera di svago e visto e considerato che tu hai una grandissima esperienza da questo punto di vista per qualcuno che invece di andare in spiaggia e magari volesse ricaricare un po' le pile dello spirito quale itinerario consiglieresti alla luce ovviamente anche della tua esperienza? Allora guarda non saprei da dove iniziare sono tantissimi dipende un po' anche dalle esigenze delle persone perché per esempio potrei consigliarvi la via Mater Dei sull'Appennino Bolognese se siete degli appassionati di cammini qui si parla proprio di un cammino mariano perché si passa in dieci santuari mariani dell'Appennino Bolognese è impegnativo quindi ci vuole comunque una preparazione però è veramente molto bello ed edificante se invece siete diciamo un po' più tranquilli ecco meno da cammini e più da macchina o mezzi di trasporto sicuramente potrebbe essere una bellissima esperienza andare a visitare uno dei santuari che ci sono in Italia quindi vi parlo non lo so di Monte Sant'Angelo che si trova in Puglia il santuario dedicato a San Michele Arcangelo che tra l'altro si trova su una linea molto famosa che si chiama la linea di San Michele che passa in sette santuari perché vanno dall'Europa all'Asia e quindi ecco una delle tappe di questo cammino bellissimo è appunto San Michele a Monte Sant'Angelo oppure c'è la Sacra di San Michele in Piemonte un'altra delle tappe del cammino quindi se volete un po' differenziare ci sono tantissime possibilità e se non sono troppo indiscreto Sara invece dove andrai tu? Allora guarda in realtà sono appena tornata dalla Grecia sono stata sull'isola di Simi appunto a visitare un santuario dedicato a San Michele Arcangelo uno dei sette di questa linea a Michele che è il santuario di San Michele in Panormitis è un santuario greco ortodosso veramente molto bello con delle tradizioni molto particolari perché lì in Grecia ci sono delle tradizioni anche molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi Allora cari amici io vi invito a seguire Sara Alessandrini sulla sua pagina Instagram dovremmo avere anche la schermata se la regia ci aiuta l'abbiamo preparata poco prima di entrare in diretta di seguire Sara perché è importante tutte le varie tappe eccola qui la sto vedendo sul nostro schermo tutte le varie tappe che Sara frequenta lei puntualmente le posta attraverso poi dei reel dei video molto brevi che sono a riassunto un po' anche di quello che lei fa e se volete trarre ispirazione per una vacanza anche diversa rispetto al solito davvero vi invito a seguirla Sara io ti ringrazio davvero tanto grazie di cuore per essere stata con noi grazie a voi e buona festa dei Santi Pietro e Paolo buona festa a presto grazie grazie mille grazie a Sara la nostra Catholic Travel Blogger noi adesso ci fermiamo e andiamo in pubblicità grazie ancora Sara